Ultimi giorni per visitare alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo la libera maniera arte astratta e informale nelle collezioni di Intesa San Paolo. L'esposizione, organizzata e promossa da Intesa San Paolo, Fondazione Ivan Bruschi, Fondazione CR Iesi in sinergia con Gallerie d'Italia, offre l'opportunità di vedere opere di importanti artisti tra cui Alberto Burri, Lucio Fontana, Afro Basaldella, Carla Cardi, Edmondo Bacci e Gino Morandis e tanti altri. Il Finissage è in calendario per il 20 luglio alle 20.30 con un'apertura straordinaria e gratuita che include anche una guida. La mostra poi si chiuderà domenica 21 luglio. Il 25 di luglio, infine, sempre a Casa Bruschi, ultima data per le lezioni di yoga nelle terrazze alle 20.30 con lo speciale appuntamento Genitori Figli. Per informazioni o prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla Casa Museo Ivan Bruschi.